Ciao amici, ciao a tutti, sono dal 7 di Che Dio Ci Aiuti, quindi non potrò essere lì a Pescara purtroppo. Mercoledì 27 luglio alle 21.30 all'Arena del Porto di Pescara faranno lo spettacolo Mamma Mia Bella, di cui ho curato la regia. Andate tutti a vederlo perché è molto molto carino, incredibile, anche se ho fatto io la regia è molto carino, perché i ragazzi che sono sul palco scenico sono bravissimi. E quindi vi aspetto tutti quanti, controllato, aspetta che controllo, mercoledì 27 luglio alle 21.30 all'Arena del Porto Turistico di Pescara. Andate a vederlo, poi mi dite se vi è piaciuto sulla pagina. Ciao ciao!